O Bambino Gesù, donami la grazia di amare tanto la Tua Mamma, Maria Santissima. Fa che il mio sia un amore tenero di figlio, come tenerissimo il suo amore di madre. Amando lei amerò te, o Gesù, e tramite lei attingerò la fonte pura dei tuoi benefici. O Gesù, concedimi per l'intercessione della Tua Santa Madre la grazia che ti domando. Concedimela per l'amore che le portasti e fa che un giorno io vi contempli entrambi nel beato regno della gloria celeste. E tu, o Madre mia, per il potere immenso che hai sul cuore del Tuo Figlio Divino, parla per me a Gesù, e ottienimi, per i Suoi e i Tuoi meriti, la grazia che ho chiesto nel corso di questa novena. Avvalora le mie povere preghiere, affinché per il Tuo materno intervento mi senta presto consolato. Sì, lo spero dalla Tua bontà e dalla Tua misericordia, o Bambino Divino. Confido anziché la grazia che attendo oggi stesso mi sarà concessa in tutta la Sua pienezza. Bambino Gesù, Vergine Santissima, vi supplico affinché la mia speranza non resti delusa. Santo Bambino Gesù, benedicimi, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga al Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santo Bambino Gesù, ascoltami. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga al Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurra in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santo Bambino Gesù, esaudiscimi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga al Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurra in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grazie. 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 Grazie.